L'idea di Perius è nata più o meno 3 anni fa, quando guardavo la televisione ho visto la storia di Gabriele Serpi che adesso è un mio amico, lui è sordo e ha avuto un incidente d'auto e non è riuscito a chiamare un carattere di azione ambulanza. Perius è un servizio che fa telefonare le persone sorde. In pratica trasformiamo una chat in una telefonata grazie alla tecnologia, quindi avendo una voce artificiale e un software che fa d'orecchio e trascrive i messaggi in tempo reale. Quando si parlava di startup pensava quindi fai finta di lavorare, era passato da sei innovativo adesso fai finta di lavorare. Perius è un'azienda che ha quasi 8 dipendenti, sono tre cose che contano in una startup team, team e team. Siamo anche in una macchina team tra l'altro. Siamo attivi non solo in Italia, siamo attivi in Inghilterra, Irlanda, Stati Uniti. Grazie a Inted siamo riusciti a lanciare negli Stati Uniti, in Inghilterra senza spostarci da Roma. L'innovazione è un po' la direzione in cui tu vai, quindi se prendi la direzione sbagliata puoi andare veloce quanto vuoi ma vai veloce contro un muro. La velocità serve una volta presa la direzione giusta a macinare sempre più chilometri, quindi andare sempre più lontano. La rete è importantissima perché è un po' una livella, oltre a eliminare le distanze toglie anche le disuguaglianze, quindi la persona sorda può interagire senza nessuna difficoltà con chiunque sia nel mondo. Le persone sorde ci tengono a essere definiti sorde e non hanno udenti perché non udente mette in risalto quello che loro non hanno, mentre loro hanno una cosa in più. Sono sordi, un sordo ha una visione periferica maggiore della nostra, quindi anche alla guida di una macchina un sordo paradossalmente può essere più attento a quelli che sono i pericoli. Telecom Italia è stato il nostro primo cliente, diciamo che per una start up partire con un'azienda che è tra le più grandi d'Italia non è male. Il futuro secondo me è la conseguenza del passato e di quello che uno fa nel presente, quindi ognuno ha il futuro che si merita da virgolette. Un saluto a tutti da Lorenzo.